Anna Tatangelo ha trovato di nuovo l'amore. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, finalmente è arrivata la conferma grazie al settimanale Diva e Donna che ha immortalato la cantante 37enne insieme al suo nuovo compagno. Si tratta di Giacomo Buttaroni, un ex calciatore attualmente allenatore della squadra juniors nazionale della Roma City. Le foto mostrano la coppia per strada con lui che aiuta Anna con le valigie. La frequentazione tra i due sembra durare da almeno qualche settimana, con i primi rumors che risalgono a inizio settembre. Le immagini di Diva e Donna confermano anche la fine della relazione tra la Tatangelo e il modello Mattia Narducci, con cui non si vedevano insieme da mesi. Anna e Mattia non hanno mai dichiarato pubblicamente la fine della loro storia, ma sembra che siano giunti a una rottura definitiva. I due hanno smesso di seguirsi sui social media e ora è chiaro che abbiano preso strade diverse. Il cuore di Anna ora batte per Giacomo Buttaroni, un uomo atletico e muscoloso, amante dei tatuaggi e poco abituato ai riflettori dello spettacolo. La nuova coppia sembra essere molto affiatata e felice insieme, con Anna che ha finalmente trovato di nuovo l'amore dopo la fine della sua relazione precedente. Grazie a tutti! Grazie a tutti!